In silenzio, ma non troppo, le manovre rosso-blu proseguono fra il conforto legato al rinnovo di Verdi, all'avere almeno ad oggi rispedito al mittente le offerte per Masine di Francesco, e il tentativo di rinforzare una squadra sulla quale, bene precisarlo, non verranno fatte follie nemmeno quest'estate. Pare avvicinarsi la fumata bianca per il centrale difensivo Sebastian De Maillot. L'Anderlecht avrebbe finalmente sciolto le riserve risposto affermativamente alla richiesta di Riccardo Bigon per l'atleta reduce dal prestito alla Fiorentina. Il Bologna propone la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni. L'Anderlecht chiede 500 mila euro in più e i due club hanno iniziato a limare la differenza. La partita pare giocarsi soprattutto sulle tranche di pagamento e garanzie bancarie che l'Anderlecht, rimasto scottato in passato in trattative con altri club italiani, avrebbe richiesto. Il Bologna si sta muovendo e i contatti stanno proseguendo anche in questi primi giorni della nuova settimana. De Maillot spinge, per lui sarebbe pronto un quadriennale da 700 mila euro. E l'ex Fiorentina e Genoa spera di firmare già nei prossimi giorni. Il difensore francese è seriamente candidato a diventare il primo acquisto del Bologna dell'estate 2017. Non l'unico colpo, però, perché i rosso-blu sono intenzionati ad affondare anche su Gonzales. Da Palermo danno già per chiuso l'affare. Secondo quanto trapela dalla piazza rosa nera, Bologna e Palermo attenderebbero solo che termini il closing del passaggio di proprietà del club di Zamparini per ufficializzare l'operazione con i siciliani che incasserebbero circa 2 milioni di euro e il difensore pronto a siglare un quadriennale da 700 mila euro.